Ora io penso che ci si assuma una responsabilità, ragazzi, signori, sto dicendo una cosa che è storia, signori, è nel senso, non è accaduto in passato, ok? In passato, non è mai accaduta una cosa del genere, in passato, al netto diciamo di quelli che poi possono essere i miei desiderati, una cosa del genere non è mai accaduta. Non è mai accaduto che si partisse da quelli che dovevano essere incarichi, diciamo, neutrali nella loro appartenenza politica, che poi certo rispondevano a un'indicazione che arrivava dai cittadini, ma non erano pensati, immaginati in una logica di maggioranza e opposizione, che invece venissero utilizzati come si stanno utilizzando in una logica di maggioranza e opposizione, che vuol dire, obiettivamente, creare un precedente, secondo me, molto discutibile. Molto discutibile per l'idea che noi abbiamo, che penso tutti insieme dobbiamo avere, di Europa. E purtroppo, signori, in molti di questi interventi che io ho sentito, questo ragionamento, su questo, diciamo, io e voi, noi e voi, proprio non la vediamo alla stessa maniera.